Ormai con il mutamento climatico che è sotto gli occhi di tutti occorre un'azione di prevenzione, evitare gli ulteriori inquinamenti che possono toccare gli oceani. Già il clima di per sé è molto cambiato a livello atmosferico. Se non si interviene preventivamente su un altro pericolo avremmo sbagliato tutti e ne pagheremmo le conseguenze della comunità mondiale. Presidente, si è parlato delle lunghe liste di attesa all'ASP di Agrigento. Saremo intransigenti. I direttori generali sono stati nominati a tempo. Hanno un anno di tempo per ridurle. Saranno chiamati a risponso alla loro scadenza, verificheremo la loro attività. Su Agrigento sono intervenuto e verrà effettuata una ispezione rigorosa. Non basta chiedere scusa dopo che il danno è stato effettuato. Per quanto riguarda invece i termovalorizzatori, qual è la sua posizione? Siamo a buon punto. A giorni trasmetteremo i documenti ad Invitalia per la redazione del bando di gara che contiamo di effettuare nei primi mesi dell'anno prossimo. Stiamo rispettando le tabelle, siamo molto fiduciosi. Il mio impegno è quello di garantire ai cittadini siciliani di risolvere questo problema irrinunziabile, quello della gestione dei rifiuti che deve essere realizzata attraverso sistemi non inquinanti che producono energia e che migliorano la qualità della vita dei siciliani. Qual è la situazione dei futuri direttori generali ora in scadenza a febbraio? Il tema è il totale rinnovamento, tranne eccezioni. Ho in mente qualche eccezione, ma non è corretto fare dei nomi, ma saranno soltanto due o tre. Occorre rinnovare, inserire nuovo entusiasmo perché è giusto che sia così. È giunto il momento di lanciare nuove leve perché moltissimi direttori ormai hanno fatto una bellissima carriera, ma si trincenano dietro l'immobilismo o dietro a volte l'assunzione di posizioni quasi dominanti all'interno degli assessorati. Questo non potrà consentirlo ormai, ora è chiarissima. Ieri l'altro la Conferenza delle Regioni ha approvato questo accordo articolo 20 che investe 800 milioni sulla sanità pubblica. Il nostro fiore all'occhiero naturalmente sarà la partenza più presto del ripristino di un'incompiuta al polo pediatrico. Ho trovato questa incompiuta assurdamente ferma da 14 anni, è tutta finanziata, fa parte di questo protocollo. Il nostro obiettivo è quello di partire i lavori sicuramente l'anno prossimo e definire più presto. È un intervento massiccio che guarda con attenzione anche al Policlinico di Palermo, che guarda con attenzione al Civico di Palermo. Abbiamo voluto concentrare questa volta la nostra attenzione sulla Sicilia occidentale, posto che abbiamo riscontrato che in Sicilia orientale la qualità della vita ospedaliera è di grande livello.